Buonasera a Campo Lug, un saluto a tutti, musica maestra. Lei, popolo Sicilia, interetta della Sicilia, se non vengono per l'uomo. Lei, popolo Sicilia, interetta della Sicilia, se non vengono per l'uomo. Lei, popolo Sicilia, interetta della Sicilia, se non vengono per l'uomo. Lei, popolo Sicilia, interetta della Sicilia, se non vengono per l'uomo. Lei, popolo Sicilia, interetta della Sicilia, se non vengono per l'uomo. Grazie a tutti.